Amici di Televignole siamo qua sul monte Brione con Beppi Meneghelli Buon pomeriggio Beppi! Buon dia, buon dia, buon dia. Volevo chiedere cosa ne pensi dell'irrigazione qua del Brione? Irrigazione? I miei libri hanno sempre bevuto con l'acqua del cielo, non ho mai dato irrigazione. Però questo vuol dire che bisogna andare a bere a tutti e ha più produzione. Ma che parla? Fondi della provincia, fondi europei, di tasca sua. Ma mi pago o non pago? Ah, dovrà pagare una quota anche lei, una minima quota. A me non mi interessa niente a me di acqua, a me non mi interessa. La solita mentalità del contadino ottuso, ottuso, ottuso. E mi conta mia adesso. Mi hai quarant'anni che vengo qui dell'oliva. Mi chiedevi a bere l'oliva. Se è che 10 anni, 10 anni di infezione, capisco anche. Ma io ti dico, mi dico che fare a me. Che fare a bere l'oliva qua? Non deve nemmeno beverla. Resta chiusa quando gli olivi non hanno bisogno. Eh, vuoi mettere la tua parola però. Eh, ormai... Mi piace, va là. Non stai a dire queste cose, queste cose migliori da fare. Mi stai a fare un piacere che mi fanno i miei misteri. Cambiamo discorso visto che si trova qui. Questa è una oasi. Non lo tendo. Guarda che c'è nulla. Ho nulla di terra. Se sto qui a parlare di irrigazione, dopo non ho dei primi misteri. Guarda la linea che ho qui. Guarda, la taglia su. Guarda che ti fanno la circolare. La taglia su e poi la tirano perché questa roba è da piove. Allora lascio Beppi. Buon pomeriggio e alla prossima. Mi acqua non vuoi. Vim? Vim se puoi parlare. Non avevo dubbio. Non avevo dubbio. Allora vi saluto. Odimi misteri. Ciao Beppi. Alla prossima. Sempre in gamba. Ciao.